I carabinieri della Compagnia di Fano, assieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Pesaro venerdì scorso, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro penale emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro nei confronti di un 54enne bresciano, indagato in concorso con un 50enne e un 45enne originari della provincia di Brescia, per concorso e ricettazione aggravata dall'ingente valore di oltre 300 tonnellate di alluminio puro di proprietà della società Profil Glass di Fano. Tutto ha inizio il 14 settembre scorso, quando presso l'interporto di Genova sono arrivate da Singapore oltre 300 tonnellate di alluminio del valore di circa un milione di euro acquistate dalla Profil Glass che ne ha commissionato il trasporto ad una ditta di Urbania. Quest'ultima, impossibilitata da sola a trasportare l'intera merce, ha incaricato attraverso una piattaforma internet altre due ditte per procedere al ritiro del carico, gli autoarticolati delle due società subappaltate, che erano in tutto 14, hanno quindi prelevato il materiale che però non è mai arrivato nei magazzini della società fanese, portando così la Profil Glass e la ditta incaricata del trasporto a spurgere denuncia. Dopo approfondite indagini, si è scoperto che le due società che avevano ricevuto l'incarico erano fittizie ed erano riconducibili a soggetti campani gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e che gli autoarticolati erano stati utilizzati in passato per reati della stessa specie, con danni altrettanto rilevanti per le società committenti. Grazie ad un lettore di targa, i carabinieri sono riusciti a risalire ad una ditta di rottamazione situata a Mazzano, in provincia di Brescia. Il ritrovamento della merce è avvenuto tramite un lettore targa system in uno dei comuni dell'Interland Bresciano, che sostanzialmente stigmatizzava il passaggio di uno dei 14 autoarticolati che furtivamente avevano prelevato il materiale presso l'interporto di Genova. Le indagini si sono concentrate in quella zona ed è stato possibile individuare appunto questa ditta di Rottami, facente capo appunto al 54enne Bresciano, dove sono state ritrovate le 300 tonnellate di alluminio, nonché ulteriore materiale ferroso di provenienza illecita e anche numerosi scaffali di vino di una nota azienda trentina. Il 54enne Bresciano, titolare della ditta, ha risultato essere di fatto il custode del materiale illecitamente trafugato, è stato denunciato per ricettazione in concorso, aggravata dall'ingente danno patrimoniale, assieme ad altri due Bresciani di 45 e 50 anni.